Amici e amiche di Radio Nostalgia, ben ritrovati! Questa mattina scendi letto, un dolce semplice e veloce. Pasticciando con il bando! Due rotoli di pasta sfoglia, mezzo litro di latte, quattro uova, di cui uno intero e tre rossi, 150 grammi di zucchero, una bustina di vanillina, scorza grattugiata di limone e mezzo cucchiaio raso di fecola di patate o amido di riso. Mettiamo a scaldare il latte, con i vari aromi, quindi con la vanillina e con il limone. Da parte sbattiamo l'uovo, i rossi, lo zucchero e l'amido che abbiamo scelto. Quando il latte bolle lo spengiamo e versiamo dentro il composto. Sbattiamo, riaccendiamo e lasciamo rassodare. Raffreddiamo subito la nostra crema. Nel mentre, forno caldo a 180 gradi, pasta sfoglia, la andiamo a buccherellare e la cuociamo un quarto d'ora. Tiriamo fuori, copriamo con la nostra crema pasticcera, copriamo con l'altro foglio di pasta sfoglia, andiamo a buccherellare, cospargiamo di zucchero a velo e lo mettiamo in forno a 180 gradi per mezz'ora. Spolverate zucchero a velo quando esce e via è pronto il nostro scendiletto. Noi ci sentiamo ogni sabato ai 10.30 qui su Radio Nostalgia e sui social. Alla prossima! Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando. Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando.